I tentativi di truffa avvengono non solo online o telefonicamente ma anche direttamente a domicilio. Sono i social network da alcuni giorni a diffondere notizie allarmanti circa la possibilità che persone non identificate si rechino a casa di cittadini del Salernitano, spacciandosi per medici dell'Inps in visita domiciliare per tentare borseggio o truffe con il pretesto di effettuare una visita medica. I malintenzionati si sarebbero presentati direttamente a casa di alcuni cittadini, spacciandosi per falsi medici dell'Inps. Ed è proprio la direzione provinciale dell'Inps di Salerno, dopo aver acquisito questo tipo di informazioni, che invita i cittadini a diffidare di queste persone e a prestare attenzione. In una nota del direttore provinciale dell'Inps di Salerno, Giovanna Baldi, Si precisa che l'Istituto incarica ai propri medici di effettuare visite domiciliari esclusivamente ai lavoratori ammalati, con visita fiscale in una fascia oraria compresa tra le 10 e mezzogiorno e le 17 e le 19, e alle persone allettate che hanno presentato domanda di invalidità e non possono recarsi presso gli ambulatori Inps perché dichiarate intrasportabili dal proprio medico curante. In ogni caso, i professionisti inviati dall'Inps chiariscono lo scopo della visita e al momento dell'accesso sono già in possesso di tutti i dati relativi al lavoratore ammalato. Allo stesso tempo, l'Inps ha chiarito che il rifiuto della visita domiciliare equivale ad essere considerati assenti dalla stessa, con la necessità di doversi recare il successivo giorno lavorativo al centro medico legale dell'Inps di Salerno per giustificare adeguatamente l'assenza, rinuncia e a sostenere una visita ambulatoriale sostitutiva.